Non è la Presidente della Regione Umbria, Presidente Tessè, quest'oggi possiamo dire che arrivano dei rinforzi, un'esperienza soprattutto importante dalla Lombardia, là dove c'è stato l'inizio un po' di tutto quanto, quindi quest'oggi sicuramente un momento significativo che potrà dare un contributo importante alla lotta contro la pandemia. Beh direi di sì, devo ringraziare il Presidente Fontana e la Vice Presidente Moratti per aver subito risposto alla mia richiesta, al di là peraltro del bando della protezione civile nazionale, sono professionisti molto preparati che hanno già affrontato questa situazione e che tra l'altro ho apprezzato molto il fatto di averci detto stiamo semplicemente ricambiando perché quando abbiamo avuto bisogno anche noi sono arrivati in aiuto e quindi è importante perché naturalmente purtroppo la presenza di queste varianti ha determinato anche il fatto che il personale sanitario si è infettato e quindi questa carenza naturalmente pesava e oggi sarà un aiuto sicuramente molto molto importante anche per l'esperienza che hanno maturato. Presenza anche di Bertolaso testimonia questa sinergia? Beh Bertolaso diciamo che ha questo doppio ruolo, nostro anche consulente e anche della Lombardia e ha sicuramente conciliato questa nostra richiesta con la risposta della Lombardia. Con noi Guido Bertolaso, quest'oggi insomma questo momento importante per la Regione Umba, grazie anche a lei l'esperienza di chi ha vissuto i primi momenti, quelli terribili, insomma in prima linea quelli che hanno quindi una grande esperienza, una grande opportunità per la Regione dell'Umbri. Ma credo di sì, è un momento di incontro e di collaborazione che in una situazione di emergenza è fondamentale, è scontato che ci sia disponibilità nel momento in cui una Regione ha una difficoltà che non è dovuta ad una eventuale incapacità organizzativa, bensì è dovuta ad un improvviso aggravarsi di un'epidemia tramite la presenza di queste varianti che sono sicuramente un problema nel problema e che abbiamo visto praticamente nessuno ancora è stato in grado di affrontare e risolvere. Quindi lei con la sua esperienza anche lei ha affrontato, non è stata vittima stessa del Covid, come vede insomma come può essere il futuro per l'Umbria chiaramente ma anche per l'Italia? Il futuro è solamente nei vaccini, non c'è soluzione o alternativa a vaccinare un numero di popolazione tale da poter permettere poi di vedere l'improvviso crollo della diffusione epidemica e soprattutto dell'ospedalizzazione e quindi del tasso di mortalità. Lo abbiamo visto in Israele, lo stiamo vedendo in Inghilterra, quei paesi che ci hanno creduto e che sono partiti ventraterra senza se e senza ma, senza mettersi a fare discussioni e altro, i risultati li stanno incominciando a vedere. Qui forse in Europa qualcuno ha dormito, ha pensato che l'ordine del vaccino significasse l'arrivo del vaccino. Purtroppo non è così, bisogna seguire le cose per riuscire a ottenerle. Noi dottor Giannico, amministratore dell'azienda ospedaliera, quest'oggi questo arrivo è importante, penso questo contributo di esperienza fattivo e grazie alla regione Lombardia può sicuramente dare un contributo per aiutare la lotta alla pandemia. Assolutamente sì, siamo grati alla regione Lombardia, a partire dal presidente Fontana, a Guido Bertolaso e a tutte le persone che hanno voluto aderire alla nostra richiesta. Adesso faremo un piccolo briefing con il personale per poi portarlo direttamente nei nostri reparti di rianimazione e all'ospedale da campo che è già pronto per ricevere i pazienti. Adesso si tratta di formare ulteriormente le persone perché comunque lavorare nell'ospedale da campo è sempre diverso rispetto a lavorare dentro le mura di un ospedale e contiamo comunque di ampliare significativamente il numero dei posti letto a disposizione sperando di non doverli utilizzare mai. Tra i medici dovrebbe essere anche colui che poi ha riscontrato il paziente zero, cosiddetto, quindi insomma un'esperienza importante. Sì, questa è una delle cose che vorremmo tenerci della collaborazione con la regione Lombardia. La maggior parte delle persone che sono venute a darci una mano sono persone che hanno lavorato nelle situazioni più critiche della pandemia e quindi possono darci anche delle utili indicazioni su come lavorare anche con la ristrettezza di risorse che abbiamo constatato in più occasioni. Questo è un primo step, poi chiaramente ci si attende il contributo del bando, della protezione civile per ulteriormente poter incrementare le forze a disposizione dal punto di vista sanitario. Sì, noi siamo fiduciosi, in questo momento stiamo vagliando le candidature che sono arrivate, sia quelle della protezione civile che anche del comando interforza che ci mette a disposizione dei militari e contiamo di riuscire a mettere su un team di persone che possa dare un contributo in questa fase del picco epidemico.